A tre turni dalla fine del campionato di Serie D succede quello che non ci si aspettava. Domenica, di fronte ai 4.000 del Liguori di Torre del Greco e ai 150 arrivati da Sassari, i rosso-blu della Torres sfoderano la prestazione autoritaria e cinica che mancava da qualche giornata. Un 2-0 netto che lascia poco spazio anche alle recriminazioni che pure ci sono state da parte torrese. Proteste di fine gara rivolte alla Terna che hanno portato anche ad una durissima squalifica del campo da parte del giudice sportivo. Sul fronte rosso-blu la giornata perfetta sul piano dell'atteggiamento, del gioco e del risultato è stata completata dal pari interno della Casertana, fermata dal fanalino di coda Progetto Sant'Elia. Ora la Torres è a più 5, lecito sorridere senza però distrarsi. La partita si apre con la Torres in avanti, i primi 20 minuti di marca rosso-blu. Ci prova Giameloni al terzo, da lontano risponde Moxedano con Secchi che para a terra. Svirgola, Lisaia, il ventesimo e Mister Bacci non ci sta. La Turis è pericolosa in contropiede, ancora Moxedano in aria ma spara alto. Dubbi sul contatto in aria tra Nuvoli e Sollo, l'arbitro sorvola ma al 38esmo arriva la rete che era nell'aria da calcio d'angolo di Manzini, testa di Meloni e Ida anticipa tutti, soprattutto a Locca, sottoporta. Un gol che gela lo stadio e infiamma i tifosi torresini che nel frattempo attendono notizie anche dal campo di Caserta. Nel secondo tempo parte meglio la Turis che cambia modulo e si affida ai lanci lunghi, ma è una Torres insuperabile in difesa. Al decimo ci mette una pezza Secchi sul colpo di testa di Moxedano. Al venticinquesimo grandi proteste per il gol di Falco annullato per fuorigioco. È una Turis volitiva ma incapace di sfondare. Mister Bacci dopo aver sostituito De Carlo Concro da spazio ai freschi Carboni e Pulina. Al 38esimo la Turis è in dieci per doppio giallo a Falco su contropiede rosso-blu. Pochi minuti e arriva al 2-0. Carboni è bravo e generoso a servire il compagno Pulina che mette dentro nella porta presidiata dai tifosi. È la fine della gara e l'inizio dei festeggiamenti. C'è anche il tempo per un palo colpito dai corallini con Gasparini. Arrivano poi il triplice fischio e gli applausi dello sportivo pubblico di casa a chiudere le ostilità. Le orecchie sono rivolte a Caserta da dove arriva la notizia di un incredibile pareggio che fa sognare magie del calcio.